Ciao a tutti, questo resoconto dell'avventura all'agenzia del lavoro, quell'uomo penso che avrà gli incubi con me di notte perché praticamente gli ho raccontato come mi hanno licenziato, cioè quando finiva il tempo di prova casualmente il mio tedesco era diventato cattivo, ma prima andava benissimo e quindi ho fatto anche questa scenetta questa è la prima scenetta che ho fatto, cioè proprio non me ne fregavo cazzo, io penso di essere diventata addirittura rossa fra un po' prendevo a pugni il tavolo, poi ho detto che praticamente ogni volta che vado al colloquio di lavoro loro non sanno quello che ho studiato e quindi reagiscono male e c'è un'umiliazione ogni volta che dura da mesi e però loro non mi hanno detto che l'Anerkennon potrebbe salvarmi da tutto questo, anche se l'Anerkennon chiaramente non è il paradiso ovviamente ho detto che l'Anerkennon, cioè il riconoscimento degli studi, non è il paradiso anche davanti a lui cioè proprio se mi veniva una parolaccia l'avrei detta, infatti ho detto io non sono stupida davanti a lui e a quel punto quell'uomo chissà come mai ha iniziato a pensare che doveva fare qualcosa per me perché tra un po' prendevo a pugni il tavolo, io proprio mi stavo trattenendo e chiaramente mi ha dato una mano, cosa che non aveva mai fatto in credo otto mesi così, io ho un po' ravvivato la giornata, ma questo è solo il primo inizio delle nostre litigate un bacione a tutti e alla prossima, ciao ciao